Il cinema non può mostrare le cose, se tenta di mostrarle non le mostra, non dimostra, non le mostra. Il cinema deve, se vuole mostrare qualcosa, suggerire la cosa che vuole mostrare. E la cosa che vuole mostrare viene dopo, per grazia di Dio, come un regalo del caso, non può venire. Se tu vuole mostrare qualcosa, non riesci a mostrare. C'è l'abstration delle immagini. Non c'è dire perché bisogna fare questa immagine per rivela l'osso dell'immagine. In la vita non abbiamo la certitudine di nulla. Non si può. 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 Ci sono un'imagine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.